Bene ragazzi, nuovo episodio, siamo al 17 So che doveva essere un episodio speciale Ma chi doveva accompagnarmi purtroppo non è disponibile Non vuole essere disponibile da come ho capito Quindi sarà un episodio normale E poi spero che un giorno ci sarà un episodio speciale A posto con la persona che mi deve accompagnare Comunque andiamo a fare i vostri livelli Normalmente con l'episodio 17 Allora piccolo avviso ragazzi Abbiamo avvisato come farò i vostri livelli Se riesco metterò qua giù sopra il video Che spiega come farò i vostri livelli E un'altra cosa A fine livello quando arriverò ai commenti Scriverò nei commenti VY Per far capire che questo è il vostro livello Che è il livello che è stato giocato E' finito su questo video Così capirete quando il livello è stato portato nel video Insomma Però cominciamo subito Con un Cambianto schermato ovviamente Eccoci qua Cominciamo con il livello di Bruno Un ragazzo Brasiliano Che mi segue pure Anche su Instagram Io lo seguo pure E vado a fare Questo qua che mi attira Non avere fretta Fai aggiusto attenzione Perfetto Ok Stile Super Mario Bros 21% di percentuale di successo Le regole di 38 secondi Vediamo che ne esce Ok Sembra Ok Salve No no Scusate No Ecco No Ok Partiamo con calma Devo quindi Devo fare attenzione Che questi qua Si sposteranno Fra poco Ecco Quindi mi piazzo qua E starebbe tutto a posto No Stiamo all'arca Disgrazia La Spostati Via Vai Lontano da me No Uh funghi Grazie Grazie Ah Eh Dove sono? Uh Wow No Mannaggia Ok Stiamo buoni buoni Perché non sto fai Ma lascia Vi odio Da morire State lontani da me Sono pericolosi Ste cose Fatemi entrare Fatemi Fatemi entrare Ok Un altro funchettino Perfetto E' un'altra pianta piragna Su Qualcoso Là Devo premerti Dimmi che ti devo premere Dimmi che ti devo premere Salve Carino Su livello Carino Ma se Se piante premio Sono disgraziata Ecco L'ho detto Allora Non è Chissà che Non sto facendo Granché Quindi Va bene Un'uscita Ma Cioè Era carino Era carino Ovviamente Il bello Glielo lascio Avrei voluto Fare un po' più azione Comunque Quello che volevo dire Prima Quando metterò Un livello In un video Farò Questa sigla Qua V Y Che rappresenta Video Youtube Quindi capirete Che qua C'è il video Su Youtube Ecco qua Vai Andiamo Al prossimo Prossimo livello È di Alex17 Hashtag Ying Yang 1.0 Stile Super Mario Bros 3 Percentuale Di successo Quando era 1 Virgola 52 Il regolo È di 3 Minute E 54 Secondi E io Dico Che in questo Video Lo finiamo Qua Con questo Livello Allora Vediamo Un po' Entrata Normale Per adesso Ok Aspetta Devo fare Con calma Qua Aspettate Un attimo Ok Non so Che sto Facendo Vi giuro Che non so Che sto Facendo Non so Se devo Premere Più Devo Usare La Più O Il Power Dovrei Aver Fatto Una Scelta Qua Non ho Capito Bene Che Scelta Devo Perché Devo Fare Stai Scelta Qualcuno Ha scritto Genial Ok Perfetto Ok Scegli Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap no no pensavo che lo schivavo questa volta scelgo il po non lo so se scelgo bene non non so se scelgo bene sinceramente aspetta il momento giusto ok allora qua ok un altro modo devo fare attenzione trovo qua ok un altro qua al centro ok ho preso giusto da dovevo prendere il po vai ok allora ma se prendevo l'api che succede mi sa che me le devo portare tutte tutte e due possibile allora facciamo così non mi sparire ti prego non mi sparire ok perché mi sa che me le devo portare tutte e due mi sa proprio di sì ok infatti ok facciamo attenzione a non premere l'api ma secondo me faccio prima a fare così ecco così non sono sicuro che non la premo ok aspetta che non mi cade addosso se no ok allora facciamo così e così e così si passa ok grazie grazie ora ci prendiamo questo bel checkpoint ed entriamo qua dentro vediamo un po' che c'è aspetta ok ok le monetine dovrebbe aiutarmi a schivare ok è un aiuto le monetine ok mettiamoci qua ok stiamo sempre qua ok poi poi di l'altra parte no ok va bene no questo è questo è cattiveria questo è cattiveria cattiveria pura ok altra cattiveria pura e mo perché non ci sono le monetine per farmi vedere dove vanno disgraziato maledetto disgraziato maledetto ok forse siamo a buon punto forse che devo fare che devo ok dovevo premerlo dovevo premerlo ok ok ti è beccati questo tu adesso dobbiamo aspettare qua che cavolo devo fare qua devo scegliere devo scegliere allora facciamo così là ci sono monetine potrei andarla a prendere vediamo sì grazie ci andiamo con calma che siamo alla fine siamo alla fine allora premo questo e poi faccio così e poi come faccio che cavolo come faccio a passare di qua mo non posso andare a tentativi a rischiare e mo che che faccio la soluzione ideale sarebbe arrivare qua senza farmi colpire e poi azzandarmi a prendere il coso ma se io non c'era il funghettino come faceva a superare questa parte? ma se tipo faccio prima questo? no dovevo fare prima questo non lo so ok provo ad arrivarci con il fungo ok eccoci eccoci ci siamo siamo col funghetto non mi sono fatto colpire e vediamo di fare le cose per bene adesso allora l'idea mia era di fare così e così e poi fare così ma così mi sembra sbagliato ci deve essere un altro motivo non posso perdere la farmi colpire per poter andare alla fine penso io poi ditemi voi poi se sapete come fare fatemelo sapere perchè non lo so non lo so comunque il bene glielo mettiamo come sapete mettiamo sempre come l'ho detto al mio video VY per far capire che sarà il video sarà su YouTube spiegami la fine la fine perchè non l'ho capita ho posto prossimo livello il prossimo livello è di Tenshi Super Mario Bros Desert Castle stile Super Mario Bros il percentore successo è 6,45 il record è 2 minuti e 52 ci sono riusciti solo in 6 su 93 tentative andiamo a vederlo va allora iniziamo in modo tranquillo un funghettino mi piace mi sta bene guarda che qua cadevo qua stavo per cadere tu state buono là che ti prendo oh un mortal koopa ciao no non vi voglio vedere no stai buona ecco qua ciao non so se devo ucciderti boom boom sai c'è una chiave roba del genere che faccio? c'è la chiave ok ah c'è pure le monetine rosse quindi devo prendere le monetine rosse vediamo un po' se c'è qualcuna nascosta di qua no qua però c'è un segreto perfetto è una one up grande quindi mi potrei pure buttare ok entriamo in questo castelluccio entriamo monetine 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 belle monetine belle entro in uno di questi tubi si? si ok preferisco questa se posso scegliere preferisco questa grazie spari? si perfetto scelgo questa mi piace la canzone generale purtroppo sono un grande amante pure di super mario land è sempre io ci giocavo il giusto per ascoltare la musica nooo ok meno male disgraziata aspetta come faccio ad uccidervi adesso? ok 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 vai via saltiamo di qua la potrei andarci un pochè ok no devo fare così presa ok ah si ci sono tre monete da prendere ho capito che serve quindi ogni porta ha una monetina perfetto e ogni porta utilizzo un metodo diverso per poter prendere la monetina quindi qua c'è il coso switchato vai scendo giù scendo giù ti lancio di che cavolo devo fare qua? andando fatemi capire che devo fare sto andando alla check ok perfetto ah ok aspetta scusa ma se faccio così ok quindi devo prima lanciarti di qua io poi ti vado a premere velocemente il pulsantino no no non l'ho capito no così non va ok devo aspettare il momento giusto per lanciare ancora no adesso no pressa ok penso che posso uscire di qua pure sì perfetto vediamo se di qua è uscita ok 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 l'ultima porta dai e poi ce ne possiamo andare ok esagerato qua però meno male che l'ho vista prima se no no ok devo essere più sbrigativo domanda stupida c'è un checkpoint qua? non c'è un checkpoint ma che bello vado a prendermi prima quella la poi penso alle altre perché quelle altre sono più abbordabili allora faccio prima questa qua così poi sto tranquillo se perdo qua non ripeto tutto ok il tempo c'è ma ho fatto troppo veloce ok ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ora posso andare a prendere le altre dai finalmente ok ci siamo finalmente abbiamo aperto questa porta dimmi che c'è l'uscita è sempre quella a destra Il tubo giusto Non so perché Ma è sempre quella a destra Eccola qua Uuuu Mannaggia Comunque Bellissimo il livello Ci mettiamo il bello Ci ho fatto pure il record Che bello Mettiamo commentino Ovviamente WS che sta per video di Youtube Ok Però devo vedere Se devo fare un modo diverso Quel WS qua sopra Che pure può farlo un po' più carino Comunque da Ci penseremo dopo Più in là Poi fatemi sapere voi Come se casomai dovrò cambiarlo Ok pubblica Con questo è tutto Un livello Un video corto Lo so Poco tempo a disposizione Per registrare Di conseguenza viene corto il video Comunque ragazzi Vi invito a guardare giù in descrizione Per vedere tutti i miei social I miei gruppi I miei collaboratori Chi più ne ha Più ne metta E vi invito A lasciare un bel like ragazzi Con questo è tutto Ci vediamo nel prossimo video Nella prossima live Che sarà mercoledì Se tutto va bene O Sì mercoledì O Sarà Le mie live saranno Di mercoledì pomeriggio Se tutto va bene E domenica mattina Se tutto va bene E per tutto va bene Di domenica mattina Se mi sveglio la mattina Tutto qua Ok Ragazzi Ci vediamo Chiudiamo Chiudiamo fra 3 2 1 0 e mezzo E Ciao 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 Grazie a tutti.